buonasera allora con grande gioia questa sera la chiesa di Santa Maria di Casinina nel giorno dell'Immacolata Concezione accoglie il coro dei Santi Bissinger e con gioia abbiamo pregato insieme e ho deciso di dedicare questa sera cantando per Maria e cantando per tutti i toni ecco allora la grazia per noi è una canzone bella di gioia, di arte, di spirito, di preghiera buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Noi, 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 alleluia, si sa te fa la cosa. Noi, noi, alleluia, si sa te fa la cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.